È un convegno molto importante organizzato da Confindustria Reggio Calabria per delineare agli imprenditori che ci sono nuove vie per riuscire ad avere credito e quindi a fare impresa. Assolutamente sì, il tessuto imprenditoriale italiano ne ha sicuramente bisogno e tutte le istituzioni si sono mosse in questo senso. Anche noi come agenzie di rating stiamo giocando un ruolo molto importante in questo mercato perché il rating è uno strumento a supporto delle emissioni obbligazionarie e stiamo già portando avanti diversi casi, alcuni già realizzati di successo, altri in cantiere. Quindi siamo confidenti che questo mercato possa prendere la piega che meritano le nostre imprese. Qual è il consiglio che può dare agli imprenditori calabresi in questo caso? Di affrontare il rating non solo come un strumento necessario per emettere un mini bond e quindi ottenere finanze ma anche come un processo di miglioramento e di crescita interna perché il rating può aiutare l'impresa a comunicare meglio con l'esterno quindi a crescere negli strumenti di comunicazione, di controllo interno e di gestione. Quindi assolutamente per il miglioramento. Grazie mille.